Quando parliamo di Stupinigi pensiamo immediatamente alla palazzina di caccia che viene realizzata a partire dal 1729 sul progetto di Filippo Iuvarra. In realtà il termine designa un territorio che è quello su cui poi sorgera la palazzina che già nel 1573 Emanuele Filiberto aveva donato all'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro che lui stesso aveva fondato l'anno prima attraverso l'unione dell'ordine dinastico di San Maurizio e il più antico ordine ospedaliero di San Lazzaro. In questo disegno della fine del Settecento che riporta anche il mai realizzato ampliamento dell'appartamento di Levante è ben visibile il disegno generale del complesso. Il lungo viale alberato che collega Stupinigi a Torino fu realizzato solo dopo la morte di Iuvarra ma secondo le sue intenzioni e su questo affacciano le cascine che con la loro attività garantivano la produttività della commenda come si vede dagli orti retrostanti. Questo e altri documenti provenienti dall'archivio storico dell'ordine mauriziano sono stati eccezionalmente esposti in occasione della mostra dedicata a Filippo Iuvarra e curata dalla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino insieme all'Associazione Amici della Biblioteca, al Centro Studi Piemontesi e al Politecnico di Torino. Tra queste troviamo tra l'altro un'altra immagine che raffigura lo stato di fatto della palazzina e del suo parco alla fine del Settecento. Si tratta di un disegno realizzato da Felice Bernardi, figlio di Giovanni Battista che fu direttore dei Reali Giardini. Il disegno dovrebbe risalire al 1789 circa ed è un'accuratissima rappresentazione dei dintorni della palazzina. Oltre agli edifici delineati in china rossa e marrone sono ben definite le rotte di caccia nel rapporto con la residenza, quella che taglia trasversalmente il salone, le due laterali verso V9 e Orbassano in linea con gli appartamenti reali e il tridente in cima, il tutto delimitato dai filari di Pioppi Cipressini riportati minuziosamente da Bernardi. La mostra prende le mosse dall'importante fondo grafico di proprietà della Biblioteca Nazionale che comprende anche i disegni di Filippo Juvarra e che furono acquistati dopo la sua morte sul mercato antiquario dall'abate Giuseppe Pasini all'epoca prefetto della Biblioteca tra il 1762 e il 1763 così da renderli disponibili per professori e studenti. Il fondo comprende anche i disegni che precedono l'arrivo di Juvarra a Torino, come quelli raffiguranti il teatro del cardinale Ottoboni, presso cui l'architetto era stato a servizio dal 1709 al 1714. Vi sono poi i disegni torinesi, come lo studio per la facciata della chiesa di San Filippo Neri, insieme ad altri ascrivibili ai suoi allievi, come Giovanni Battista Sacchetti, autore di un disegno sempre per la fabbrica di San Filippo Neri, datato 1732. Nel 1857 il corpus juvarriano della Biblioteca si arricchisce di un ulteriore volume autografo, datato 1707, che l'architetto messinese realizza durante il suo soggiorno romano, con schizzi e disegni. Si tratta di un volume di 131 fogli, su cui Juvarra impaginò fogli più piccoli di un tacquino, comprendenti i disegni più vari, elementi architettonici, prospettive di palazzi, ma anche marine, sculture, stemmi, a testimonianza della grande varietà di interessi di Juvarra per l'architettura, la scenografia e anche la scultura derivata dalla tradizione di argentieri della sua famiglia.